Primo Levi sosteneva che l'importante è conoscere le cose, anche se non le si comprende appieno. Nel giorno della memoria, la città di Teramo si inchina al ricordo di Alberto Pepe, teramano illustre, morto di stenti e di sofferenze, nel 1945, a 35 anni, nel campo di concentramento dove fu deportato dai nazisti. Impossibile comprendere quella follia, come diceva Levi, ma bisogna conoscerla e non dimenticarla. Nel giorno della memoria, Teramo ricorda i suoi eroi. Ricorda i suoi eroi per lanciare un messaggio di consapevolezza, e ovviamente incentrato sulla memoria, a tutta la comunità. Oggi più che mai è necessario ricordare che il termine memoria non è solo ed esclusivamente un termine che ci porta a ricordare un tragico passato, ma è anche e soprattutto l'occasione per proiettare verso il futuro quel monito. A deporre una corona di fiori sul monumento dedicato ad Alberto Pepe all'interno della villa comunale di Teramo, suo nipote Alberto Melarangelo, attuale presidente del Consiglio Comunale. La storia di Pepe è venuta alla luce grazie ad un diario, da lui stesso scritto durante i due anni di prigionia e conservato da un suo compagno di sventura che riuscì a sopravvivere a quell'orrore. Non volle mai aderire al fascismo, perché lui era fedele all'Italia, al fascismo di Salò ovviamente, era fedele all'esercito italiano, quindi non a un'ideologia. E fu insieme ad altri poi trasferito per punizione, in un campo appunto di punizione, dove per stenti e sofferenze morì nell'aprile 1945. E quindi grazie a un commilitone che riuscì a salvarsi per miracolo, perché il campo poi fu liberato dagli inglesi, altrimenti sarebbero morti tutti, ne morirono moltissimi, ma non tutti, uno di loro riuscì a riportare il diario a la moglie, a mia nonna appunto, nel quale si raccontano due anni di internamento violentissimo. E davanti all'ultima abitazione di Alberto Pepe, in Viale Cavour, è possibile ammirare una pietra d'inciampo, una piastra in ottone, soscritto il suo nome. Un'idea dell'artista tedesco Gunther Demling, ripetuto in tante città europee per tanti deportati. A Teramo è stato Demling personalmente ad installare nel 2016 questo simbolo della memoria.